Cari amici, sono Emiliano Babilonia. Questa è la seconda parte dell'intervista che ho fatto col professor Corrado Malanga. In questa intervista parleremo di ipnosi quantica, ipnosi simulata di massa e test effettuati con un elettroencefalografo per visualizzare le frequenze in stato cosciente, le frequenze in stato ipnotico e le frequenze in stato di sonno REM. Perché noi abbiamo fatto un test in ipnosi e abbiamo visto che questa ragazza attraverso sempre l'elettroencefalografo e noi abbiamo detto ma come è possibile scusa le stesse frequenze dell'ipnosi ce l'hai mentre cammini per strada. Dopo la ragazza quando è entrata in ipnosi, incominciava a vedere o a sentire degli anomali suoni, degli anomali rumori, addirittura sentiva rumori delle sirene dentro al cervello, sentiva persone che parlavano ma non c'era nessuno a fianco. Ovviamente è come il fatto, io sto in chiesa, sento le voci e dico ah è la Madonna, è il diavolo, oppure sto in un cimitero e dico oddio sono i morti. Qui si apre però un aspetto un po' diverso della questione perché l'ipnosi secondo le ultime mie idee ovviamente, che sono legate a una ipnosi quantica, cioè alla quantistica applicata all'ambiente dell'ipnosi, siccome la quantistica prevede che non esiste lo spazio e non esiste il tempo, in uno stato di ipnosi profondo il soggetto è atemporale, quindi da quel punto di vista può sentire, percepire tutto ciò che accade in un unico spazio e in un unico tempo. In quel contesto amplifica la sua percezione, non la riduce e se questo tipo di percezione non è rediretta, polarizzata, a fargli vedere un solo evento, questa mi vede tutto, contemporaneamente non ci capisce più niente. In quel contesto il cervello, che è un pezzo di carne, che non ha niente a che fare con la mente, funziona come una macchinetta ed emette delle frequenze. Quindi se io prendo un oscillatore esterno, pompo su questo cervello quelle stesse frequenze, che sono quelle che poi mi fanno in ipnosi vedere le cose, io ottengo gli stessi risultati. Quindi con un generatore di frequenze? Assolutamente, perché il cervello è un apparecchio che serve per fare determinate cose, facciamo finta che il cervello sia un apparecchio che serve per illuminare, cioè una pila elettrica. Illuminare vuol dire guardare, vedere, comprendere, capire, un po' archetipicamente. Durante l'ipnosi la mia consapevolezza, la mia coscienza accende il cervello e il cervello vede le cose. Durante invece un'esperienza di altro tipo, dove tu vieni indotto da una macchina esterna, la macchina esterna produce l'accensione della lampadina senza che la tua coscienza abbia voluto farlo. Perché il cervello è un pezzo di carne che appartiene, che te utilizzi. Ma come lo utilizzi te? Perché è il tuo contenitore? Se non ci stai attento te lo utilizza qualcun altro. Tu non sei il cervello, sei la mente. È vero, infatti dai studi che noi abbiamo fatto la gente è anche un po' suggestionata dagli avvenimenti che gli avvengono intorno. Infatti noi cerchiamo di tranquillizzarli perché giustamente loro dicono, io sento questa voce ma da che cosa proviene? E poi si accolgono e dentro la gabbia di fara non sentono più la voce, oppure sentono determinate frequenze o determinate suoni invece che altri. Addirittura sto facendo un progetto di come creare delle case anti-radiazioni con dei relay che bloccano la corrente elettrica. Ecco, qui c'è un aspetto fondamentale che varebbe la pena di sottolineare perché questa potrebbe rivelarsi una battaglia ma persa, cioè molto difficile. In questo senso, riuscire a togliere tutte le radiazioni, togliere tutti gli effetti elettromagnetici, togliere tutte le impurezze, togliere tutti i trasgenici, togliere tutto è, è una battaglia che si può fare ma ha una caratteristica fondamentale di partenza, cioè la creazione per difendersi di una serie di barriere. Allora, dal mio punto di vista, si potrebbe dimostrare con un teorema fisico che la creazione di barriere produce sempre un'altra barriera e non solo, ma la creazione di barriere ti fa vivere in un modo non armonico. Allora, se invece di affrontare il problema con la creazione di barriere, cioè io mi difendo in qualche modo da te, la mia coscienza comprende che te che mi stai attaccando, altro non sei, che è uno specchio della mia consapevolezza e mi stai dimostrando che dentro di me c'è qualcosa che non va, curo me stesso, non ho più barriere e l'altro non mi si presenterà più. Cioè, in altre parole, per cambiare bisogna cambiare la società, ma per cambiare la società bisogna cambiare l'individuo, ma per cambiare l'individuo ci vuole la consapevolezza e la coscienza di sé, non un'armatura che ti difenda dagli altri. Nell'istante in cui te sei cosciente, consapevole di tutto, nel modo migliore, non c'è più nessun inquinamento. Sì, infatti è vero, infatti è anche suggestione tante volte, perché sentono patologie che gli vengono dette, magari uno dice se ti avvicini vicino a quella centrale elettrica hai più disturbi e loro quando si avvicinano… Perché? Certo, certo, questo per un motivo fondamentale, è che siccome noi siamo uno e quindi l'altro non è un altro, non è il nemico, ma è quella parte di me che ha una consapevolezza differente, e siccome noi siamo i creatori del nostro universo, noi ci creiamo il nostro universo, quindi non è che io vedo un'allucinazione che non c'è, non esistono allucinazioni, io creo l'universo perché credo che ci sia la Madonna da vedere, la vedo la Madonna perché lo creo così io, quindi non è che c'è una persona che vede bene e una persona che vede male, ognuno vede l'universo che si è creato, ma allora perché ognuno si crei un universo coerente con gli altri, l'unica possibilità è che tutti si creino lo stesso universo, e come si fa questo? Siccome la creazione dipende dalla consapevolezza che hai, quando tutti avranno raggiunto la stessa consapevolezza tutti vedranno le stesse cose. Ma magari che tutti vedano le stesse identiche cose. Mi ricordo su un'altra sua intervista lei disse se non c'è un rincoglionimento di massa non voteresti questo, non voteresti quest'altro. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Io comprendo anche come sia non facile dimostrare all'altro questa cosa, perché l'altro siccome ha una consapevolezza di te differente, vede comunque il mondo diverso. Facciamo un esempio semplice, quante volte sarà successo? A me metto, un giorno mi risponde e mi dice, siccome te hai detto che quella pallina era blu, io ho detto no, guarda che ho scritto questa pallina è rossa, no no, c'è scritto così, questo vuol dire blu. Cioè lui a seconda della sua consapevolezza vede la mia realtà in un modo differente. Vero, la realtà distorta che ci circonda praticamente. Quindi per esempio D'Alema, che io giudico un cretino, disse che Gesù Cristo era il primo comunista. In questa frase c'è una ignoranza totale della storia, della religione, della politica che è allucinante. Sì, infatti per me tante volte col fatto delle scie chimiche, col fatto delle radiazioni elettromagnetiche, col fatto dei farmaci, dei vaccini, l'acqua che viene inquinata, fanno calcificare la pineale attraverso sostanze che vengono messe anche nell'acqua oppure all'interno delle scie chimiche o tanto altro. Proviamo a vedere il fenomeno da un altro punto di vista. Vediamo questo fenomeno in questo modo. Quello che ci accade è semplicemente quello che noi stessi abbiamo deciso che ci debba accadere. Perché noi ci costruiamo una realtà virtuale che è quella che noi vogliamo vedere. Quindi se qualcun altro mi calcifica la pineale, la colpa è mia. Perché se io avessi consapevolezza di me e non me la faccio calcificare la pineale. Però tanta gente non sa manco di queste cose, cioè vivono in un mondo… Bene, esatto. E dov'è l'errore, secondo me, l'errore sperimentale? L'errore è quello di diventare il paladino della difesa degli altri e dire guardate vi sta succedendo questo, non fate così, così e così, vi propongo delle nuove ricette. No, non serve, perché lo scemo rimane scemo. A meno che non diventi intelligente ma per i cazzi suoi, cioè perché lui ha fatto il processo di consapevolezza. Perché te, per quanto tu possa, in qualche modo, sacrificare la tua vita per gli altri e per fargli capire come stanno le cose, non ce la farai mai. Sì, perché troppa gente… tutti pensano in un modo differente e tutti ragionano nel modo loro, cioè anche uno che spiega una determinata cosa, il giorno dopo la rifanno a modo loro. Quindi, per esempio, è inutile che Berlusconi tenti di convincere, e infatti così succede, Renzi o Renzi tenti di convincere Berlusconi, perché nessuno dei due sarà mai convinto, perché ognuno ha una visione, una consapevolezza della realtà differente, ma si scopre qualcosa di ancora più interessante, che Renzi e Berlusconi la pensano esattamente nello stesso modo. Poi, come si dice, tra cani non si mozzano. Non si mordano, certo. Ma avevo letto su una sua ricerca che parlava della frequenza di 50 Hz che veniva sparata all'interno di una stanza, perché le persone avevano delle patologie. Sì, questo è un esperimento che è stato fatto diversi anni fa qui all'Università di Pisa, ma ne stanno facendo tantissimi di questo tipo, e si avevano, dagli articoli letti, pubblicati su riviste scientifiche di neurofisiologia, fenomeni di analgesia dentale, di disorientamento spazio-temporale, per cui i soggetti non si ricordavano, non sapevano più dove erano. Io tirai fuori quell'esempio perché era lo stesso fenomeno che accade all'addotto quando sente il rumore nell'orecchio, fischio, forte, e subito dopo accade l'adduzione. Ma lui perde coscienza di sé, memoria, non sa più dov'è, non sa quanti secondi sono passati, non sa più niente. Quindi è la teoria anche di utilizzo di una tecnologia anche ipnotica per la destabilizzazione celebrale, per cambiare i nostri ragionamenti anche. Va tenuto presente una cosa fondamentale, l'ipnosi te la puoi fare su un soggetto che accetta il tuo intervento, perché se no te in ipnosi non ci metti nessuno. Questo in termini tecnici Erickson diceva perché non si può fare, perché tu ti ribelli, sai inconsciamente che l'altro ti sta prevaricando e quindi non ce la farà mai. In realtà è la tua consapevolezza che decide se tu devi entrare in ipnosi oppure no, cioè ti devi concedere all'altro oppure no. Se te hai una consapevolezza di te, nessuno ti metterà mai in uno stato ipnotico, ma se tu credi che non ci sia nulla di male, tu decidi di entrare nello stato ipnotico. Non è l'ipnologo che ti mette in ipnosi. Certo. Infatti la gente questo non lo capisce e tante volte entrano in dormiveglia durante la notte e pensano che sono entrati gli alieni, che sono diventati addotti, che hanno persone vicino che li toccano, oppure mentre sentono le voci, tante di queste persone sentono le voci di parenti, di amici, di persone vicine. Noi abbiamo spiegato che anche la narcolessia ti fa sognare ad occhi aperti e di stare tranquilli quando accadono queste cose. L'unico problema è che tanti pensano che la loro vita è finita, che la loro vita sia distrutta. C'è un solo modo per superare questo problema, far capire alla gente, per quanto possa essere possibile, che loro sono i fautori della loro vita. Quindi se loro sono nella merda è perché hanno deciso di esserlo, perché se no nella merda non ti ci mette nessuno. Facciamo un esempio popolare. Tutte quelle operazioni tese a fare il malocchio. Quella donna mi ha fatto il malocchio da quando ha pensato contro di me, a me mi va tutto male. Ti va tutto male perché tu pensi che quella donna abbia un potere su di te che ce l'ha semplicemente perché te pensi questo, perché nell'istante in cui dici va a fanculo, il malocchio non ce l'hai più. Cioè il malocchio esiste, è reale, è vero, è qualcosa di negativo che viene contro di te, ma semplicemente perché te glielo permetti. E glielo permetti solo perché credi che quell'altro sia più forte di te. Ma quando mai? Quell'altro non è più forte di te, quell'altro è sei te. C'è una parte di consapevolezza diversa, ma sei te. è vero, è vero. Grazie. Grazie.